Musica Covid in campagna, 183 nuovi contagi, peggio di noi in tutta Italia, fa solo la Lombardia con 316 positivi giornalieri. Si sfiorano i 200 casi e si ritorna indietro nel tempo. Non si avevano tanti casi dallo scorso 2 aprile a quando eravamo in pieno lockdown. Anche questa volta più della metà dei tamponi positivi vengono fuori dagli screening sui viaggiatori. 81 sono casi di rientro, 36 dalla Sardegna e 45 da paesi esteri. Ieri sono stati effettuati 5.492 tamponi, aumentano i pazienti in terapia intensiva da 3 a 5 e diventano 121 i pazienti ricoverati. E attualmente positivi in campagna sono 1.596 persone. Fortunatamente, come già detto, per la quasi totalità si tratta di pazienti asintomatici. L'età media è scesa fino a 29 anni. I casi in aumento sono soprattutto il risultato di una strategia vincente di controllo e monitoraggio che consente di contenere i contagi asintomatici che avrebbero diffuso il virus se non avessimo fatto i tamponi a rientro. A dirlo è Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli e componente dell'unità di crisi della regione Campania. Questa fase ha continuato e conseguenza dei viaggi all'estero dei giovani più refrattare alle precauzioni, dei ritrovi, delle feste e della mondanità che sono veicolo di contagio. Una dottoressa Irpina è rientrata a lavoro all'ospedale Moscati dopo qualche giorno trascorso al nord Italia. Ha ripreso servizio nel reparto di cardiologia per tre giorni prima di sottoporsi, come di consueto, ad un controllo preventivo ed è risultata positiva al coronavirus. Il protocollo di sicurezza dell'ospedale avelinese prevede controlli puntuali per chi trascorre 15 giorni di ferie o fa viaggi in zone a rischio o all'estero. La professionista risiede nel comune di Monteforte, è asintomatica ed ora si trova in isolamento con gli altri componenti del suo nucleo familiare. Ma c'è preoccupazione alla città ospedaliera dove immediatamente è stato chiuso il reparto di cardiologia alle visite esterne e tutto il personale di pazienti che sono stati in contatto con la dottoressa sono stati immediatamente sottoposti ai test veloci, risultati tutti negativi. Effettuati anche i tamponi, stamane gli esiti per i pazienti tutti negativi. Nel pomeriggio si conosceranno quelli sul personale. Intanto la ASL di Avellino ha ricostruito la filiera dei contatti esterni alla struttura avuti dalla professionista. La dottoressa positiva però non è l'unico caso. Il risultato al Moscati è stato ricoverato stamane un trentenne della costa d'Avorio positivo al coronavirus trasferito dall'ospedale di Pozzuoli con tutte le precauzioni del caso. Ora si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive. Ma a preoccupare è un caso di sospetto covid. Si tratta di un sessantenne avellinese che attende il risultato del tampone ricoverato al pronto soccorso del Moscati dopo essere risultato già positivo a quello rapido. A darne notizia il sito di informazione Il Ciriaco che spiega come l'uomo dipendente dell'ente di Palazzo Caracciolo ha febbre e tosse e avrebbe contratto il virus ad una festa alla quale ha partecipato due giorni fa in una nota struttura ricettiva della provincia di Avellino. In provincia non è scattato ancora nessun protocollo, si attende prima la certezza del contagio, l'esito del tampone atteso in serata o al massimo domani mattina. È proprio vero, il coronavirus non fa differenze nelle scelte. Colpisce chiunque, ricchi, poveri, borghesi, persone che abitano in piccoli paesini e quelle che vivono nelle grandi città. Siamo proprio tutti sulla stessa barca. I focolai possono verificarsi nei centri più popolosi, ma anche in uno dei comuni con meno abitanti, come per esempio Caselle in Pittari, provincia di Salerno, neanche 2000 anime totali, ben 12 soggetti positivi, con tutti i familiari di questi posti in quarantena e contatti da accertare. Si sono contagiati, a quanto pare, in un ristorante che è stato già chiuso precauzionalmente nella giornata di ieri. Ecco le parole del sindaco di Caselle in Pittari, Gian Piero Nuzzo. Tutti i positivi sono in buone condizioni di salute e questa è una buona notizia. Ovviamente sono stati posti in quarantena obbligatori insieme a tutti i loro familiari e stiamo lavorando da ore per ricostruire la catena dei contatti. Immaginiamo in questo modo di circoscrivere il focolaio di infezioni. Io ritengo che il lavoro che stiamo svolgendo già da ieri praticamente e soprattutto da oggi pomeriggio, da quando abbiamo avuto la certezza degli 11 positivi, il lavoro che stiamo facendo, impeto, soprattutto da oggi pomeriggio, ma anche che faremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, porterà a questo risultato, cioè a circoscrivere il focolare di infezioni. Per questo motivo io vi invito alla calma, vi invito ad evitare allarmesimi, vi invito ad evitare psicosi e soprattutto vi invito a continuare ad usare dispositivi di protezione, qui mascherine, distanziamento sociale, avere tutti quei comportamenti... Ma i casi di coronavirus aumentano in tutta la provincia. Sei nuovi positivi a mercato San Severino riguarderebbero componenti tutti della stessa famiglia riunitasi per il pranzo di Ferragosto, riconducibili a una persona risultata positiva poi il 22 agosto scorso. Sono tutte asintomatiche. Andranno però verificati i contatti tenuti prima che venissero posti in isolamento domiciliare. Ancora quattro casi a Salerno Città, tre a Nociare Inferiore, uno a Baronissi, due a Battipaglia, un altro caso a Cava dei Tirreni. Il sindaco di Vietri sul mare ha confermato un caso anche nella cittadina costiera. Chiuso, per ragioni di sicurezza, il poliambulatorio dell'ASL Salerno 2 ad Eboli. Visto che sono risultati positivi due dipendenti. Eboli, dove la situazione è monitorata minuto dopo minuto. Specie in considerazione dei 24 soggetti positivi nell'azienda agricola, che hanno riguardato anche soggetti di altre cittadine vicine come Bellizzi. Si sarebbero contagiati tutti dopo il rientro dalla Francia di un bracciante. Intanto, ad Angri, dove restano otto i positivi accertati, è giunta ieri sera la notizia che i tamponi effettuati su giocatori e staff dell'Angri Calcio sono risultati negativi. I test si erano resi necessari dopo che un tesserato era stato contagiato. Tutti i sindaci del territorio continuano intanto a lanciare appelli ai cittadini, a quelli di rientro dalle vacanze, di segnalare il loro ritorno, specie se dall'estero. E poi, più in generale, l'altro appello riguarda ovviamente quello di evitare assembramenti, di lavarsi spesso le mani, di mantenere la distanza di un metro e, soprattutto, di utilizzare la mascherina al chiuso e all'aperto. Il tema dei trasporti è strettamente legato alla ripartenza dell'anno scolastico. Mentre si fa strada la possibilità di derogare al distanziamento a bordo dei mezzi di trasporto, considerata la limitata permanenza temporale sui mezzi da parte dei viaggiatori, fino a consentire l'80% del riempimento, dove vengano garantite adeguate misure di contenimento dei rischi contagio, mascherino obbligatorio, sanificazione degli ambienti, adeguato ricambio d'aria, in vista della conferenza delle Regioni Unificata, che si svolgerà lunedì 31 agosto, è stata convocata per la mattinata in Regione Campania una seduta della Commissione per definire una posizione comune fra gli assessori ai trasporti delle Regioni. In merito al trasporto degli studenti si cercano soluzioni. Se rimane solo con il trasporto pubblico, non si riuscirà a garantire il viaggio a tutti gli studenti. Occorre che il Governo autorizzi la stipula di accordi con il trasporto privato, i noleggi con conducente, i bus delle gite scolastiche, per aumentare il numero dei mezzi per portare i ragazzi a scuola e prevedere l'attribuzione di risorse economiche. L'ite con accoltellamento nel comune di Sperone, due giovanissimi protagonisti dell'episodio scaturito da motivi passionali, denunciato un minorenne. Si tratta di un sedicenne del posto che per motivi sentimentali, nella tarda serata di ieri, ha sfidato il rivale in amore in corso Umberto. Prima un'animata discussione, poi il ragazzino ha tirato fuori un coltello a farfalla della lunghezza di 23 centimetri ed ha colpito al torace il rivale in amore, un ventenne di Casalnuovo in provincia di Napoli. Per le lesioni riportate, la vittima è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Avellino, mentre i carabinieri della compagnia di Avella hanno ricostruito quanto accaduto. L'attività investigativa sviluppata con l'escussione di persone informate sui fatti e con l'analisi di utili elementi raccolti in seda di sopralluogo ha permesso ai militari dell'arma di individuare in poco tempo il presunto responsabile che nel frattempo era rientrato nella propria abitazione. Hanno sequestrato l'arma del delitto condotto in caserma. Alla luce delle evidenze emerse, per il sedicenne è scattato il deferimento in stato di libertà dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli per i reati di porto abusivo di arma da taglio e lesioni aggravate. Non erano in quattro, non stavano al bar, ma erano in cinque e si dilettavano in una zona collinare di Nocera Inferiore, in particolare nei pressi del Castello Fienga, a sparare con pistole, risultate poi giocattolo, ma evidentemente molto simili a due pistole originali, Beretta e Glock. Due i giovani deferiti all'autorità giudiziaria durante un'operazione portata avanti dagli agenti della Polizia di Stato della sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore. I due ragazzi di 20 e 17 anni sono ritenuti responsabili di aver usato in luogo pubblico due pistole giocattolo, repliche di armi da fuoco attualmente catalogate, effettuando anche alcuni spari che hanno seminato il panico tra i residenti. La zona attenzionata sarebbe dunque quella del Parco Fienga, Nocera Inferiore, dove ieri intorno alle 17 alcuni cittadini impauriti hanno segnalato al commissariato gli spari, pensando che ci fosse in atto un'azione criminale. Sul posto si è ritrovata anche una camionetta dell'esercito italiano con a bordo militari intenti a controllo del territorio. Subito dopo sono giunti i poliziotti che hanno effettuato una ricognizione del luogo e individuato i cinque giovanissimi di Piedimonte che erano intenti a maneggiare le armi, rivelatesi giocattolo, idonee a sparare soltanto a salve. Gli agenti hanno bloccato i ragazzi sequestrando le due pistole, una riproducente il modello Beretta 9X21, sprovvista di tappo rosso, l'altra il modello Glock 17, con tappo rosso, entrambe calibro 8 mm. Dopo l'accertamento delle responsabilità di tutti quanti i protagonisti, due di essi, effettivi proprietari delle armi e autori degli spari, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per l'appunto per l'utilizzo di armi in luogo pubblico. 21 nella smorfia napoletana rappresenta la figura di una donna nuda e il Napoli ha giocato proprio a carte scoperte i suoi primissimi minuti della nuova stagione agonistica. Nel triangolare tutto abruzzese con Castel di Sangro e l'Aquila, 10 reti sono state rifilate ai padroni di casa e 11 ai titolari dell'Abbaro del capoluogo di provincia, pubblico esaltato soprattutto per la tripletta, contro gli aquilani del nigeriano Vittor Rosimèn, l'uomo chiamato a rilanciare le sorti dell'attuale attacco del Napoli è con calma a ereditare i galloni di caporeparto da quel Driss Mertens che ha 33 anni sembra averne ancora pertanto e lo ha confermato con una doppietta. Tripletta contro il Rosso Blu anche per Lorenzo Insigne, nella prima sfida invece, con i giallorossi difensori dell'orgoglio cittadino, il primo a segnare è stato Roberto Politano che si è confermato con altre due reti. Insomma, l'attacco funziona e a vedere i risultati, fatte le debite e proporzioni con gli sfidanti, sembra che anche la difesa possa dare segnali incoraggianti. In rete intanto è andato anche il polacco Milik, che con il passaggio di Zeco alla Juve è sempre più vicino alla Roma, con il passaggio di un Derra al Napoli, ma oltre al mercato è giunto il momento delle nazionali. 12 convocati nelle varie rose, tre in azzurro, Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, chiamati dal CT Roberto Mancini a difendere i colori italiani nella doppia sfida di Nations League contro Bosnia, Herzegovina e Olanda. Sono stati giorni di tempesta e vento, come direbbe Liga Bue. Lo sono stati e lo sono ancora per la serenità nella sua tifoseria sempre più distanti e dalle prese con un rapporto di fiducia che è precipitato ai minimi storici. La scorsa notte, presso il centro tecnico FIGC a Coverciano, è stato esposto uno striscione secco, quanto potente nella sua perentorietà. No alla multiproprietà, con tanto di vessillo granata in calce. Un grido nel silenzio, un lampo nelle tenebre, una sorta di ritornello che ha il sapore di una sentenza. Dopo la protesta a Formello, dopo gli striscioni di dura contestazione all'indirizzo del direttore sportivo Fabiani, esposti a Rieti, a Polla, sede del ritiro del Messina, club sempre più legato alla serenità, dopo le iniziative dei tifosi, come quella dei giorni scorsi della generazione Donato Vestuti, la questione multiproprietà è stata definitivamente sdoganata. Non è più, ammesso che per alcuni lo fosse stato, un tabù, non è una bestemmia, non è una manifestazione di ingraditudine verso una proprietà che pure ha saputo risalire rapidamente dalla Serie D alla cadetteria, ma che ha poi raggiunto una sorta di pace dei sensi. È un moto d'orgoglio, uno scatto di dignità, la rivendicazione della libertà di sognare e di competere alla pari con gli altri, senza dover sempre restare nel limbo, un passo indietro, sempre un metro, visto che siamo nell'epoca del distanziamento sociale, distanti dal traguardo. La proprietà tace, la dirigenza resta nell'ombra, ma la voglia di uscire dall'anoniminato e di sottrarsi al gioco della multiproprietà sta dilagando. I patron hanno fatto il massimo di ciò che il regolamento consentisse loro, perché se è vero che la promozione in Serie A non è vietata, è quantomeno complicata dalla situazione imbarazzante che si creerebbe e che costringerebbe l'Otito ad uscire di scena repentinamente, lasciando la serenità nei mani chissà quanto sicure, senza poter avere neanche il tempo per valutare la situazione in tutti i suoi aspetti. Sarebbe una cessione fatta in fretta e furia quando l'agire di questa proprietà è stato sempre caratterizzato da una sorta di lentezza di base. La multiproprietà priva la tifoseria Granata della spensieratezza che dovrebbe essere una componente essenziale dell'animo del tifoso che va allo stadio con la speranza di vincere la propria squadra e che non può e non deve essere appesantito da altre considerazioni. L'Otito ha scelto da sempre la Lazio per cui la domanda ha già una risposta e la società dopo la separazione con Ventura avrebbe dovuto dare segnali ben diversi se avesse voluto dare seguito alle esternazioni telefoniche di L'Otito subito dopo la sconfitta interna con lo Spezia. Se c'era rabbia, amarezza, insoddisfazione per l'epilogo della stagione segnata dal Covid allora la ripartenza sarebbe dovuta essere forte, decisa, eloquente mentre altre squadre retrocesse dall'Ao promosse dalla C hanno già un telaio per non dire una formazione titolare ben delineata la sanità è un gruppo senza identità e volto la surreale situazione di calciatori solo parcheggiati a Sarnano come ad esempio Maestro ne è una conferma che senso ha per Castori avere in ritiro un calciatore della Lazio e non un calciatore di proprietà come ACPAC Pro che invece da giorni a Formello pur non essendo stato ancora ufficializzato il suo passaggio alla Lazio per forma almeno sarebbe stato più giusto che l'ex Tolosa fosse a Sarnano e Maestro a Formello in attesa di notizie certe sul proprio futuro c'è una sorta di approssimazione ma anche di distacco da parte della proprietà in questo inizio di stagione che non sono casuali come aver affidato ad una società sterza l'organizzazione della gara amichevole con la fermana per assistere alla quale i tifosi Granata dovranno pagare 15 euro un prezzo fuori mercato per tanti motivi quasi un invito a non varcare i cancelli dell'impianto che ospiterà la gara per non avere scomode intrusioni occhi indiscreti testimoni scomodi di una realtà che al momento sconforta e preoccupa perché la storia è senza attaccanti e più in generale quasi senza squadra e sta portando avanti prove tattiche con un gruppo quasi fantasma tanto è vero che Pestrini è tornato a vestire i panni del calciatore per fare numero insomma la partenza di questa stagione è a dir poco falsa piena di incognite e caratterizzata da un sentimento di malcontento ed insofferenza della tifosiria verso la proprietà e la dirigenza che restano in silenzio ben consapevoli di aver toccato il fondo in quanto a popolarità e gradimento ma ancora e sempre ostinatamente beffardamente attaccate al timone di una nave che è ormai in mezzo alla tempesta su cui soffre un vento che questa volta sì pare davvero essere cambiato centrocampo si sono concentrate lì le attenzioni dei dirigenti delle squadre che seguiamo da vicino il tran tran delle voci circolava già da giorni poi è arrivata l'ufficialità in casa paganese Daniel Onescu è il centrocampista che il presidente Trapani attendeva già da qualche anno lo voleva fortemente per il suo progetto poi non si era concretizzata una trattativa che pareva ben avviata già tante volte stavolta il pressing della paganese ha funzionato Onescu si è convinto ad accettare l'avance del club azzurro stellato un'altra regione del sud per il rumeno 27enne che è stato già in Puglia con Andrea Bisceglie e in Calabria col Catanzaro quindi il passaggio in Campania adesso fermo restando l'esperienza a Verona con la Virtus e in Toscana col Grosseto Onescu dopo essersi sottoposto ai controlli legati al protocollo anti-covid potrà aggregarsi al resto del gruppo di Mister Erra stamane intanto effettuate le visite mediche al centro cardiologico De Martino altra squadra nostrana la cavese altro rumeno si tratta del promettente Mikhail Onija centrocampista centrale di proprietà del Torino che il direttore Pavone è riuscito a strappare alla guerrita concorrenza con un contratto di prestito per un anno nato 20 anni fa a Timisoara città che ha una folta rappresentanza nel calcio italiano si pensi a Marin Benzar Dragomir Lex Codrea ed altri è arrivato in Italia nel 2016 Onija per merito della Virtus Entella poi il passaggio al Torino dove è stato sempre tra i migliori con la squadra primavera i Granata gli hanno fatto anche assaggiare un po' di Serie A quest'estate era d'obbligo il passaggio a un club di B si parlava con insistenza del Pescara ma la Cavese ha avuto la meglio non è rumeno ma ha giocato a Bisceglie per qualche mese insieme ad Unescu il centrocampista è ingaggiato dalla Nocerina si tratta di Andrea Bottalico che nella seconda parte della scorsa stagione ha rinforzato invece il Noe Cattaro oggi ridiventato Noia Calcio e che vanta anche un'esperienza a Malta con l'Ambrun Spartans dove si sono intravisti altri giocatori italiani classe 98 Bottalico è cresciuto con Latina poi Andrea Bisceglie in Serie C si tratta di un giocatore dalla buonissima tecnica individuale che dovrebbe essere uno dei perni principali nel progetto spertivo dei rossoneri di Mr. Cavallaro in Serie C in Serie C Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.